Silvano, piacere, è la prima volta a Brasile, i vostri vini sono meravigliosi e sono molto contento di sapere che sono biodinami, mi piace molto per il rispetto alla natura, parlo un po' di vostra azienda, i vostri vini? Ci sono i vini di Piavalta, dei castelli di Iesi, delle Marche, sono due vigne, Piavalta è una vigna del 70 e San Paolo è una vigna del 92, tutti gestiti in biodinamica, mentre invece Franciacorta, che è meraviglioso, questo io ho assaggiato in Masterclass, siamo la prima azienda biologica organica della regione, è di breve fare organico in Franciacorta Speriamo di essere portati a breve in Brasile Certamente, andiamo a divulgare e cercare qualcuno, no? Obbligato Grazie mille, auguri